Dove verranno portate le dosi e poi la loro volta smestate? Sono due comparti, ogni comparto ha due vanni. Il volume che porterà sono 10 scatoline. Quella che arriverà a noi saranno 10 scatoline di dimensioni 23x23x4. Qui entrano comodamente anche uno solo. Questa poi viene messa a sua volta in una scatola? Sì, abbiamo le borse tecniche. Questo è un codice che noi attaccheremo poi sulla bolla per tenere la tracciatura completa dell'obligo. Molto bene, molto bene. Tutto funziona perfettamente e siamo in attesa dell'arrivo dei vaccini.